Ci sono due problemi. Uno, come dare garanzie, rispetto e dignità alle persone che cercano fortuna nel nostro paese, ma è altresì vero che bisogna trovare delle forme e degli accordi e delle norme che consentono l'ingresso regolare nel nostro paese. In molti pensano che l'Italia sia invasa dai migranti, soprattutto dall'Africa, ma i numeri ci raccontano una storia diversa. Sono molti meno di quanti si creda. Questo è quanto emerso dalla presentazione del dossier sull'immigrazione 2024. Regione Lombardia è la regione dei primati, sia per quanto riguarda l'immigrazione di un vecchia, tra virgolette, sia per quanto riguarda la nuova immigrazione. È un polo di attrazione non indifferente. Non abbiamo nessuna invasione, non abbiamo barconi che sbarcano continuamente sul nostro territorio, abbiamo tante persone che sono nel nostro paese e di cui le imprese hanno bisogno. In Lombardia risiede il 22% dei cittadini stranieri presenti in Italia, mentre solo a Milano ne vive il 9%. Tra loro molti possiedono qualifiche e competenze, che però non vengono riconosciute costringendoli a inserirsi nicchie poco appetibili e spesso grigie del mercato del lavoro. Dove sostanzialmente si annida lo sfruttamento, si annida la mancanza di riconoscimento di molti diritti e dove appunto la retribuzione è mediamente inferiore rispetto ai lavoratori italiani del 30%. L'altra cosa importante sarebbe quello di permettere la conversione del visto per turismo in permesso di soggiorno, perché molte persone, molti cittadini stranieri arrivano nel nostro paese con un visto per turismo, trovano lavoro senza passare dai centri per l'impiego ma utilizzando i canali dei propri connazionali che sono già qua, trovano un lavoro ma non possono regolarizzarsi e quindi questa cosa crea irregolarità. C'è un livello politico perché ancora oggi l'immigrazione è un terreno di scontro politico e purtroppo se rimane terreno di scontro politico non diamo una soluzione. Più di 2 milioni di stranieri sul territorio nazionale hanno un lavoro, sebbene spesso in settori a basso reddito e questo può portare ad un problema sociale. Non dobbiamo trascurare che le sacche del lavoro povero e del lavoro nero sono all'interno di un confine che è prevalentemente presidiato dagli immigrati. Queste persone sono inserite in settori che sono molto spesso poco qualificati, poco retribuiti, con pochissima progressione di carriera, quindi è vero che è necessario importare mano d'opera ma bisogna investire assolutamente sulle politiche per l'integrazione. Tutto questo purtroppo si sta riversando nelle periferie dove si creano le condizioni per uno scontro sociale piuttosto importante e nelle periferie si annidano le nuove povertà. E le difficoltà di integrarsi e di imparare la lingua spesso nel mondo del lavoro possono pregiudicare anche la sicurezza. Molto alta la percentuale di lavoratori migranti che subiscono degli infortuni e questo è dovuto anche a che cosa? Nel nostro paese non viene insegnata la lingua italiana e molto spesso questi lavoratori magari possono comprendere l'italiano ma non sanno leggere le istruzioni.